Grazie a tutti. Era da tempo che non si registrava un botte e risposta così pepato tra l'ex sindaco Marco Ted e il consigliere regionale Mario Bruno. Il sorgere del nuovo anno, ma più che altro l'avvicinarsi delle prossime elezioni, ha sicuramente riacceso la miccia. E nelle prossime settimane, c'è da giurarci, saranno tante le occasioni di confronto e anche di scontro. Per adesso, la questione sollevata riguarda un cavallo di battaglia di questi anni, la facoltà di architettura. Tutti, almeno a parole, la ritengono un'eccellenza, ma poi i fatti spesso contraddicono questo proposito. Certamente, le parole dell'assessore Sergio Milia non possono essere prese sotto gamba. L'esponente della giunta Cappellacci ha garantito che per il polo accademico algherese ci saranno le risorse necessarie per proseguire al meglio l'attività, oltre che un'ulteriore premialità derivante da una voce di bilancio legata alle eccellenze, che lo stesso Milia ha anticipato, riguarderà anche architettura. Non si può sorvolare su un fatto che vede la realtà algherese legata a doppio filo all'Università di Sassari. E' infatti il senato accademico, guidato dal rettore Mastino, a indirizzare le somme che la regione versa annualmente per i vari corsi, compreso quello di architettura. Per Bruno, questo processo si dovrebbe interrompere, ma fu lo stesso Soru, con la sua maggioranza di centro-sinistra, compreso l'onorevole algherese, a volere questo tipo di procedura che penalizza il Ghero. Questo è ciò che oggi sottolinea a gran voce Marco Tedde. Un silenzio colpevole schiamazzi stizziti. L'epopea dell'onorevole Bruno sul declassamento della facoltà di architettura, dice Tedde, può riassumersi così. All'epoca in cui l'aggiunta Soru assunse l'infausto provvedimento, stette alla cappa per non affrontare i marosi di Soru, un preoccupante autogol peraltro fatto da fermo. Ma per Bruno sono passati già tre anni dal governo Soru e il presidente Cappellacci avrebbe potuto già porre il rimedio. Tedde non sfugge e conferma che l'attuale governatore dovrebbe trovare una soluzione definitiva, Come è detto però dalle parole raccolte da Catalan TV, dell'assessore Emilia, le soluzioni sono già sul tavolo. L'aspetto prioritario però è un altro. Chi decide sta a Sassari. Oggi è l'università turritana, tra i vari tiri e molla di diversi corsi, di professori, presidi e docenti, a decidere che strada devono prendere i soldi assegnati dalla regione. Dunque per primo deve essere il rettore, il senato accademico, a credere in architettura, se non ci troviamo davanti solo a stere di polemiche. La Fondazione Meta comunica che il giorno 5 gennaio alle ore 10.30 presso la Sala Conferenze degli Uffici di Informazione Turistica, siti in piazza Portaterra, si terrà la presentazione del calendario Momenti di Alghero e la premiazione delle foto vincitrici del concorso indetto al fine di realizzarlo. Il primo premio è lo scatto presentato da Gabriella Cappucci, seguito dalla foto di Petro Meggiorini. Terzo posto invece per Margherita De Linsas. Il premio studenti, autori iscritti alle scuole superiori di Alghero, è stato assegnato alla foto presentata da Clara Alvao Morales. Durante la premiazione la commissione esaminatrice procederà all'approfondimento delle tematiche e dei criteri di giudizio espressi in fase di valutazione. E sempre giovedì 5 gennaio, ma alle 21, il Quartesa IAL farà da cornice al Grand Prix Corallo Città di Alghero, speciale sportivi sardi dell'anno, organizzato dalla SD Valverde. La serata, condotta da Nicola Nieddu, vedrà premiati i migliori sportivi isolani decretati da una giuria. Sul palco anche Benito Urgo e Raffaele Tizzano. Il meglio dello sport sardo dell'ultima stagione in passerella ad Alghero il prossimo 5 gennaio al Quartesa IAL, con inizio alle ore 21, nell'anteprima della dodicesima edizione del Grand Prix Corallo Città di Alghero, speciale sportivi sardi dell'anno, organizzata dalla SD Valverde del presidente Costantino Marcias. A differenza delle precedenti edizioni, ha detto lo stesso presidente, questa volta si è voluto anticipare la premiazione degli sportivi sardi all'inizio dell'anno, in concomitanza con le festività natalizie. Mentre per il mese di luglio, resta l'appuntamento con i premi nazionali dedicati al giornalismo, al cinema e alla televisione. A decretare i 10 nominativi premiati, è stata una giuria, composta da esperti del settore e giornalisti sportivi, coordinati dallo stesso presidente Marcias. Saranno premiate diverse discipline sportive e sarà dato spazio a quelle dedicate ai disabili. A presentare l'evento sarà il giornalista Nicola Nieddu, ideatore del premio, mentre i momenti di spettacolo saranno affidati al comico Benito Urgu, al protagonista di Amici di Maria De Filippi V, Raffaele Tizzano, e alla Rosa Dorodanze di Mena Solinas. Tra i top 10 sportivi sardi dell'anno che saranno premiati, la Dinamo Basket Sassari, Nadia Agnani, campionessa italiana di bocce, la Torres Calcio Femminile, il portiere giallorosso Pippo Zani, il Fertilia Calcio, il tennis club Alghero. Nel corso della serata saranno consegnati alcuni premi speciali al presidente del CONI provinciale di Sassari, Gian Nicola Montalbano, al dirigente del 1945 Alghero, Almabile Simbula, al maestro di karate Maurizio Gobbino e alla velocista Aurora Salvagno. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Grazie e arrivederci.